Ciao bambini, oggi voglio raccontarvi una storia speciale, una storia che ha cambiato completamente la vita di Formigine e anche di tutti i formiginesi. La nostra storia inizia un dicembre di tanti anni fa. Era un dicembre in cui era caduta molta neve e tutto era bianco, i tetti delle torri, il parco, la piazza. In piazza l'albero brillava di mille luci colorate e il castello era stato addobbato con tante decolazioni colorate. Alla corte topina, sotto al castello di Formigine, il 24 sera al tramonto fervevano i preparativi per il grande cenone della vigilia. Tutto era pronto, i cuochi lavoravano senza sosta e la grande tavola imbandita era pronta al centro del salone. Plotilde, la pittrice di corte, si aggirava camminando velocemente per i corridoi, carica di materiale. Portava un cavalletto, una grandissima tela e una scatola piena di pennelli, tubetti di colore e la sua immancabile tavolozza. Infatti voleva realizzare un dipinto in cui si vedesse il castello innevato al tramonto, la situazione che c'era in quel momento. Non era facile trovare l'inquadratura perfetta perché lei voleva che nel suo dipinto si vedessero entrambe le torri della corticella, ma anche il giardino e l'albero. Quindi uscì nel parco e iniziò a cercare il punto da cui poter vedere tutte queste cose. Incamminandosi verso il camminamento delle mura, Plotilde notò uno strano mucchietto di neve. Di neve ce n'era tanta nel giardino, ma quel mucchietto era veramente sospetto, anche perché era alto più di lei. Si avvicinò con cautela e molto silenziosamente, facendo molta attenzione a cercare di capire se quel mucchietto si muoveva. In fin dei conti poteva esserci nascosto sotto un folletto pronto a farle uno scherzo ghiacciato, ma il mucchietto non si muoveva. Allora Plotilde appoggiò tutti i suoi strumenti da una parte, facendo attenzione a non bagnare la tela, e si avvicinò ancora di più. Il mucchietto era immobile. Scrostò con le zampine e un pochino di neve, e ancora il mucchietto non si mosse. Allora prese coraggio, non poteva esserci un folletto là sotto. Si avvicinò ancora di più, tolse tutta la neve con le sue zampine e scoprì una specie di palla, però bislunga, come quella con cui i bambini umani giocavano nel parco. Era bislunga e di strani colori, un po' dorato, un po' rosso, un po' cangiante. Allora decise di fare la prova definitiva. Accostò il suo grande orecchio a questa strana palla e batte piano piano con la zampina. Quella strana palla suonava piena ed era particolarmente dura. Poteva essere soltanto un uovo. Sì, un uovo. Sì, Clotilde era sicura, quello era sicuramente un uovo. Quindi dentro a quell'uovo c'era qualcuno, un cucciolo di qualcosa. Ma quale animale poteva deporre un uovo così grande? Si guardò intorno alla ricerca del nido, ma sugli alberi o neanche sul prato non vide nessun nido. E d'altronde avrebbe dovuto essere un nido veramente grande per contenere quell'uovo. Come poteva fare? Lì attorno sembrava non esserci proprio nessuno. Ma non poteva certamente lasciare un uovo così, in mezzo alla neve. Nessun cucciolo poteva nascere in mezzo alla neve. Bisognava portarlo al caldo. Sì, ma quell'uovo era così grande. Era più grande di lei. Lei non poteva portarlo da nessuna parte. Pensò e ripensò e continuò a pensare finché le sue grandi orecchie non iniziarono a congelarsi nel freddo. E ad un certo punto ebbe l'idea geniale. Avrebbe usato la sua grande tela come una slitta. Sì, certo, si sarebbe bagnata, ma non faceva niente. Ne avrebbe comprata una ancora più grande. Quindi prese la sua tela, la mise per terra e piano piano provò spingendo a far rotolare l'uovo sulla tela. Una volta che l'uovo fu sistemato su questa slitta di fortuna andò dietro alla tela e iniziò piano piano a spingere. Era fatta! La slitta si muoveva! Però adesso dove poteva portarlo quest'uovo? Nel castello o nelle torri? Chi si sarebbe preso cura di lui? Serviva un posto caldo, confortevole. Pensò e ripensò e le sue orecchie si congelarono completamente finché anche qui non ebbe un lampo di genio. Avrebbe portato l'uovo da Astrolabio, il mago del castello. Lui sicuramente avrebbe scoperto di che animale era quell'uovo e quindi il modo migliore per prendersene cura. Iniziò a spingere la slitta e si diresse con un po' di fatica alla torre dove Astrolabio aveva il suo laboratorio. Clotilde si arrampicò sulla porta del laboratorio del mago. Iniziò a bussare con le sue zampine fino a che il mago non uscì, tutto imbronciato. Chi è che mi disturba anche il giorno della vigilia di Natale? Disse Astrolabio. Sono io, sono io Astrolabio! Attirò l'attenzione Clotilde. Il mago la vide. Clotilde, ma che ci fai qui in mezzo alla neve. Sei così piccola, rischi di affondare. Astrolabio, Astrolabio, disse Clotilde un po' agitata. Ho trovato questo strano uovo e indicò la sua slitta di fortuna. Tu sai a che animale appartiene, Astrolabio? Cosa facciamo di quest'uovo? Come facciamo a curarlo e ad accudirlo? Astrolabio guardò con cura l'uovo, si avvicinò di più, bussò un po' sulla sua superficie. Accigliò la fronte, si massaggiò la barba e poi porse la mano a Clotilde. Forza Clotilde, andiamo dentro a consultare qualche libro. Prese sulla mano Clotilde e con l'altra mano l'uovo ed entrò nel suo laboratorio. Astrolabio appoggiò la topolina e l'uovo sul suo banco da lavoro. Poi prese dallo scaffale un grande librone polveroso e iniziò a sfogliarlo, con un po' di fretta, un po' velocemente, guardando soprattutto le immagini. Dunque, quello non era un uovo di struzzo, non era un uovo di pettirosso, non era un uovo di gallina, neanche di lucertola e neanche un uovo di dinosauro. Ma che uovo era? Ad un certo punto sorrise e alzò il dito. Trovato, disse, è un uovo di drago. Clotilde era estasiata. Di drago, Astrolabio, davvero è un uovo di drago. Astrolabio si schiarì la voce e lesse dal libro. Drago, uovo di drago. Le uova di drago hanno una forma bislunga e colori diversi a seconda della razza di drago che lo depone. Generalmente i colori del guscio si rifanno ai colori del manto del drago che c'è all'interno. L'uovo si schiude generalmente dopo circa cento anni dalla sua deposizione. Ma se quello era davvero un uovo di drago, oltre a essere una cosa bellissima, questo però portava anche un grande problema. E Clotilde se ne accorse subito. Ma Astrolabio, ma se questo è un uovo di drago, come facciamo a prendercene cura? È troppo grande per entrare nella corte topina. Un drago poi è ancora più grande. Noi Astrolabio non possiamo occuparci di questo drago. Astrolabio ci pensò molto e decise di coinvolgere il re Topazio e la regina Topolinda nella decisione. Insieme stabilirono che l'uovo sarebbe stato messo in cima alla torre, su un grande cuscino blu al calduccio. Le castellane si sarebbero occupate di lui fino alla schiusa. E poi, una volta nato, il drago avrebbe potuto decidere se rimanere al castello di Formigine oppure no. L'uovo si schiuse il 31 dicembre dell'anno successivo. Dall'uovo uscì un piccolo cucciolo di drago, verde, con le scaglie arancioni, rossicce e un po' cangianti. Il piccolo di drago decise di rimanere a Formigine e di stabilirsi lì. D'altronde, il grande cuscino blu era comodo e calduccio. Inoltre, tutti erano sempre molto gentili con lui e le dispense del castello erano piene di carote. Le castellane allora decisero di chiamarlo. Sono sicura che lo sapete già.